Buongiorno, io sono Gianni Lia, sono stato militare per lungo tempo e nasco da una famiglia piemontese, ad Asti, con precedenti tutt'altro che militari, tutti ingegneri e architetti, è finita lì. Sono quindi di una famiglia molto convenzionale, perché noi piemontesi siamo fatti così, siamo sabaudi, nasciamo sabaudi, moriamo sabaudi e quindi fedeli e quindi costruiti in una certa maniera. Io invece sono finito nelle forze armate e sono stato nel corso Nibio, nell'Accademia, come vi racconterò, e la mia storia nasce invece con questo padre che era ufficiale dei Vigili del Fuoco, laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, mia madre professoressa di Fisica e di Chimica, compagna di scuola della Montalcini, fra l'altro, a Torino naturalmente, laureata a Torino, e quindi con questi accrediti iniziali di questo genere. La vita poi è cambiata, ha girato in altro modo, mio padre è diventato ufficiale dei Vigili del Fuoco, ha fatto carriera e mia madre insegnava al liceo la Fisica e la Chimica e facevano figli, hanno fatti cinque, adesso non subito, ma insomma col tempo, sono cinque figli di cui io ero il primo. E quindi seguivo questo mio essere apparentato con un ufficiale in carriera e mi costringeva la famiglia a muoversi in continuazione, cioè ogni promozione, ogni evento di mio padre comportava il movimento della famiglia. La famiglia naturalmente non è partita subito con cinque figli, ma dopo poco si è costituita così e quindi c'era mia madre che si occupava dei piccoletti, oltre che del suo insegnamento che non ha mai lasciato, e mio padre che si prendeva il primo genito perché ero io, ero un po' più birichino degli altri e quindi non poteva essere lasciato in mano a mia madre. Mio padre è stato trasferito in vari comandi e quindi noi abbiamo seguito la sua scia, siamo finiti a Fiume, allora Fiume era italiano e avevamo il nostro appartamento come sempre, il comandante dirige del fuoco all'appartamento in caserma per reperibilità. Scoppia la guerra e militarizzano i pompieri, il militarizzare di pompieri comporta la possibilità di gestirle come militari, cioè li prendono, li sbattono dove vogliono e danno l'incarico che vogliono, che vuole lo Stato evidentemente. E quindi sto genitore è stato a Fiume, io a Fiume naturalmente, in questo giro naturalmente io vivevo, ero il più grande che vivevo molto con la vita dei vigili del fuoco e quindi ho un po' preso da lì e ho preso molto dai cromosomi molto tecnici di mio padre, ingegnere, di mia madre professora e quindi ero quel melange lì che non è cambiato nel tempo. Questi eventi hanno fatto sì che i pompieri un bel giorno venissero utili per la guerra. La storia dice che l'hanno, essendo militarizzati, c'era il problema di Malta. Sembra un assurdo ma ve lo spiego. Malta era iniziata la guerra per l'Italia con la guerra in Libia naturalmente che era un nostro territorio e quindi eravamo responsabili di questa guerra. guerra che è stata poi presa in mano dai tedeschi perché i tedeschi avevano capito che si poteva tramite la Libia attraversando l'Egitto si poteva arrivare al petrolio di cui avevano molto bisogno in Iran e giù di lì e quindi ci hanno messo delle persone serie a fare la guerra che era il generale Rommel come tutti sappiamo, il quale aveva i suoi mezzi, i suoi soldati e trottava come una bestia nel deserto sul litorane che noi avevamo già costruito e a noi è rimasta la competenza dei rifornimenti al signor Rommel il quale ne aveva tanto bisogno perché aveva bisogno di correre e di arrivare al petrolio. In questa cosa ci si è frapposto Malta che Malta era un tiro di schioppo alla linea sud Italia-Libia, bastava che uscisse una petroliera da Taranto o da qualche altro posto italiano e da Malta usciva un altrettanto poderoso cacciatore pendiniere e la fondava e quindi il povero Rommel si è trovato appiedato, non appiedato ma insomma scarsamente mobile perché l'Italia non faceva fronte ai suoi impegni e allora hanno deciso di prendere Malta, udite udite storia, con le scale aeree dei pompieri, le scale aeree dei pompieri che essendo militari dovevano rispondere alla bisogna e le scale aeree sono quelle scale che oggi ci sono ancora, sono su quei camion che hanno queste scale che si snodano, che sono tutte raccolte impacchettate in posizione di riposo e vengono usate all'occorrenza snodandole su e dirigendole dove serve e avrebbero mandato su della gente sulle montagne greche per andare a greche e maltesi per andare a prendere Malta, alle spalle dove non si sarebbero mai accorti naturalmente dei pompieri che arrivavano alle spalle, comunque così è andata la storia, ma è stata una grande bufala che non ha funzionato e dopo un po' di mesi mio padre era stato mandato a comandare questo gruppo di inaddestramento alle capannelle a Milano, a Milano a Roma, al capannelle di Roma dove c'era questo centro antincendi dedicato agli antincendi e dopo un po' di mesi la cosa è passata nel dimenticatoio questo battaglione si chiamava battaglione m come la persona che potete immaginare perché questo dice la storia è andato subito subito no ma dopo un po' di mesi è andato in in memoria e nel frattempo è venuto mancare il comandante di Reggio Calabria mio padre era stato rimosso per questa nuova bisogna delle capannelle da fiume ed è stato mandato a coprire il posto del comandante mancante a Reggio Calabria questa cosa sembra ininfluente invece lo è perché dopo poco e siamo nel 42 questo avviene nel 42 grosso modo e nel 43 l'inizio del 43 ci sono c'è lo sbarco lo sbarco alleato Rommel si ferma naturalmente perché i pompieri non hanno dato abbastanza foga alla loro opera subalta e niente la guerra dato libertà si è fermato Rommel e gli alleati hanno preso vigore l'hanno respinto indietro e hanno sono organizzato lo sbarco in Sicilia che tutti conosciamo e quindi sbarco in Sicilia mio padre comanda Reggio Calabria che è laggiù e quindi si frappone il fronte fra lui e noi quindi lui è diventato un prigioniere era militare ufficialmente e quindi rispondeva a tutti i requisiti per essere fatto prigioniero e trattenuto per sempre al di là quindi noi abbiamo fatto tutta la guerra la mia famiglia appesi a sta povera madre e fuggiti dalla nostra campagna che nostra campagna in Piemonte e che ci ha ospitato tutti perché la nostra di famiglia da dal 1600 e quindi casa nostra e quindi siano diventati campagnoli mia madre e questa è una cosa per me ha continuato in maniera interessante perché mia madre a quell'epoca per far campare tutti i quattro i cinque figli che le sono rimasti addosso ha si messo da relazioni e dava lezione dal liceo in giù dalle anze i contadini anche all'elementare che c'erano gli illetterati che andavano a chiederle in dialetto madame in chi la che è più che maestra lei che è più che maestra insegna andare la firma a mio figlio che va soldato e soldati allora davano una cartolina credo la settimana l'hanno ancora data anche a me in accademia penso poi i residui della guerra e dei soldati mandati davano la cartolina ma non sapevano firmarlo almeno mettere la firma di resto bene e la mandavano alla mamma ecco quindi dava lezione dal contadino povero recluta fino ai ragazzi che non davano più l'università perché l'università era lontana torino era pericoloso e quindi facevano lezione come madre io ero lì che mi bevevo le sue lezioni e io sapevo fare le radici quadrate a memoria radici quadrate che oggi non credo che ci sia più un umano al mondo che faccia radici quadrate come si fa la moltiplicazione invece allora si facevano così non lo so più fare ma loro lo sapevo fare e avevo e facevano terza elementare la terza elementare e facevano le radici quadrate che stavo sentire davo raccogliere l'erba per i conigli vivevamo in quel modo lì mia madre mi raccontava come cresceva l'erba o come i vermi mangiavano gli altri vermi i quali a loro volta facevano pulizia della terra insomma queste cose campagnole che io le ho prese da mia madre chimica mia madre a quella poi lì qua era 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 un mondo diverso perché per esempio noi avevamo una zona viticola evidentemente la stigiano e i contadini i contadini per campare coltivano il vino continuano l'uva e l'uva ha bisogno per preservarsi dalle malattie ha bisogno del solfato di rame che una materia che oggi si compra sacchi di granuli e allora non c'era perché sul fatto di rame comporta il rame che serve per la guerra e l'acido solforico che serve per la chimica e quindi i guai parlare sono fatto di rame per i contadini niente si fottono loro il loro vino bene e allora questi contadini venivano spediti da mia madre che sapeva le formule e quindi era era si adoperava questa roba che c'erano anche le nostre di vigne fra l'altro da coltivare le mandavano dunque con la con la fine i repubblichini brigate nere e tutto questo giro qui che non vi racconto perché è la storia e non dell'aeronautica e rendevano la vita molto difficile e lì avevano intubato nelle gallerie della stigiano tutti i treni ancora viventi ma non c'erano più i ponti quindi i non servivano più a niente erano intubati dentro le gallerie e i contadini andavano selvaggiamente a prendere i fili di rame per avere il rame non facevano il vino e non campavano perché è l'unica monocultura che si fa in quelle parti d'italia bene andavano e tornavano al tempo giusto con i loro rotoli di fili o di pezzi che sapevano trovare al buio delle cose era per me era un mondo affascinante questi contadini che dal nulla veniva fuori trovano il rame sui treni parcheggiati sotto le gallerie della stigiale era una cosa per me era una novità ma crescendo ho capito che era un mondo meraviglioso il mio in cui vivevo e mettevano questi mia madre faceva le proporzioni stecchiometriche si chiamano di chimica di trarrame e l'acido solforico che andavano prende perché serviva e veniva usato per le batterie delle macchine già allora funzionava col piombo con l'acido solforico si trovava magari a 5 litri 10 litri ma insomma era sufficiente per fare la proporzione stecchiometriche x chili di rame e x litri di acido solforico dentro un bidoncione di di cemento perché non si consumasse e veniva se non avrà mai la possibilità di farlo lo faccia perché viene fuori una bomba quando si ci sono il sul fondo tutti sti fili starà di rottami di rame e gli si butta sopra 10 litri di acido solforico si crea la fine o l'inizio del mondo perché è la stessa è la stessa reazione fumo di quelle parti una puzza che dura per sempre però viene fuori l'acido solforico il solfato di rame che è quello che salvava il i guadagni dei contadini e io così ho vissuto in queste maniere così molto inventato da un momento all'altro con molti pericoli perché lì gira cominciavano già a girare c'era i reduci dall 8 settembre noi abbiamo avuto un 8 settembre che ha smembrato l'esercito quindi la gente tornava i nostri soldati tornava dalla russia dico russia oppure africa oppure posti anche grecia e tornavano a casa a piedi perché avevano disbandato l'esercito e quindi tornavano a piedi con tornavano nel tardo tardo ottobre settembre ottobre quindi quei freddi con le cose tornavano mutilati dalla dai geli della russia era un gran casino però per me era questo mondo fantastico dove si creava l'acido solforico e rame insieme facevano miracoli e quindi mi insegnavano io naturalmente c'erano c'erano i tedeschi che facevano i rastrellamenti c'erano le brigate nere che facevano i loro latrecini c'erano i partigiani che si difendevano era non si sapeva chi dà ragione ma insomma si campava in questo modo approssimativo mio padre ignoto ai più perché era in una zona occupata da altri era al di là della guerra quindi non si sapeva niente forse vivo forse morto non si sapeva un giorno è arrivato ma molto dopo una cartolina della della croce rossa italiana che diceva l'ingegnere lì è vivo il campo di concentramento e tornerà quando nel senso quando possibile e abbiamo campato così io che diventavo sempre più bravo a fare radici quadrato imparato il teorema di pitagora l'ipotenuse il quadrato su l'ipotenuse uguale alla somma del quadrato costruito sui cateti e tutta sta roba qui quando i miei compagni di scuola facevano l'abecedario proprio non scrivono ancora le lettere faceva così io quello aveva imparato e quello sapevo e quindi ero molto proiettato verso le cose tecniche poi famiglia mi erano tutti ingegneri o architetti quindi di quello si è sempre mangiato e questo è stato il mio inizio e arrivo il mio padre torna dalla guerra lo e purano perché quella la prassi che era il di sopra un certo grado veniva e purato cioè messo in un cantone senza stipendio in attesa di appurare se aveva collaborato o meno col partito fascista perché se si lo cacciavano via se si era no e allora non aveva collaborato allora lo tenevano in servizio mio padre restato della seconda categoria e l'antenuta in servizio gli andato il comando della spezia allora finalmente siamo andati tutti di nuovo insieme prima io con lui e poi mia madre dopo che nel frattempo insegnava a milano ai licei è tornata e ci siamo ritrovati in qualche modo insieme e da allora abbiamo siamo continuati in parallelo io coi pompieri mia madre e i miei fratelli con i loro numeri i loro compiti di matematica e le loro scuole e la cosa andò avanti al mio padre in passato a genova vice comandante poi comandante lì c'è stato un grande salto di qualità perché hanno affidato a genova l'incarico di costituire i sommozzatori quelli che oggi sono gli spostatori carabinieri della guardia di finanza di questi cosi allora erano stati creati è stata inventata questa cosa credo dal un certo signore credo che fosse non mi ricordo il nome uno dei dirigenti del servizio antincendi si è presa questa e hanno preso i e gli uomini sommozzatori gli uomini dei dei maiali nei ruoli di marina gli uomini che avevano condotto la guerra sottomarina quei mezzi quei mezzi quei silori silori manovrati a mano sono morti una quantità ma qualcuno era sopravvissuto in particolare e in particolare il nostro poi diventato carissimo amico gigi ferraro medaglia d'oro vivente perché gigi ferraro faceva questo l'avevano messo era un giovane ufficialetto dell'accademia di marina bravo scanzonato figlio di buona donna scusa mamma di lui non l'ho mai conosciuta ma insomma e l'hanno mandato all'ambasciata di in turchia da qualche parte non mi ricordo il nome mi verrà e come ha detto militare grande bel figliolo amato dalle donne quindi ci stava benissimo in un'ambasciata di una nazione più o meno neutrale come la turchia ma lì si andavano a rifornire le navi inglesi che prendevano il materiale ferroso per fare i canoni in inghilterra e arrivavano lì e caricavano questo materiale ferroso e lui andava lui faceva finta di essere un mollaccione donnaiolo e basta tipico segretario di ambasciata nottentempo si metteva la sua tuta di sommozzatore si prendeva i suoi delle mine magnetiche che gli aveva che gli procuravano evidentemente andava sott'acqua e andava queste navi che venivano per una nazione tra le forse non era la turchia era l'armene non lo so cosa fosse ma insomma era in turchia una di queste isolette greche da quelle parti lì andava nottentempo abbia appiccicare queste miniate queste mine alle fiancate delle navi e la cosa è durata in eterno perché non erano cose che scoppiavano a tempo scoppiavano con un'elichetta che si metteva in moto quando le navi si muovevano quindi scoppiavano in mare quindi colpa dei sommergibili che non l'hanno visto è quello li ha silorati quindi è stato lì mesi per lo meno il gisie ferraro ed era una parte della storia della nostra famiglia così e lui dirigeva i corsi di sommozzatori di questi qua a cui io partecipavo perché ero il figlio del comandante quindi potevo andare andavo e c'era questo porto di genova che era che era pieno di navi bombardate quindi affondate nel porto e che era il grand play della dell'addestramento di tutta sta gente che tutti si giovanotti bei giovanotti di tutte le forze armate due camionate una camionata e mezza di questi qua che partivano e andavano in porto e ci andavo anch'io a mettere a entrare in queste carcasse di navi che dovevano essere evidentemente smobilitate dal porto e mettevano partecipato non partecipavo io perché non mi voglio dare delle cose no ma comunque partecipavo vedevo davanti io fino a che non sarebbero visti esplosivi non esplodevano io potevo stare in acqua chiunque ci poteva stare senza pericoli mettevano facevano tutto un contorno delle aree della nave affondata o di altra cosa che simulava l'obiettivo e poi mare libero tutto libero si faceva scoppiare la cosa si sventrava sta nave che era già sventrata di suo affondata e tutti si mettevano sotto metà erano lì a raccogliere pesci perché oggi oggi non si farebbe più perché sarebbero saremmo falcidiati degli amici naturisti no che non si fanno queste cose ma se uno vuole esercitarsi su una nave sprofondata silurata in un porto per liberare il porto fa saltare anche delle mine e così facevano e quindi alla sera si faceva nella gran mangiata di pesce perché venivano su a frotte dei bei pescioni pescetti con come a seconda delle posizioni e questa questa è stata la mia vita fino allora ero a genova e a quel punto sono finito il mio ginnasio io dovevo andare al liceo e dono mio padre aveva deciso di andare al liceo e io invece volevo andare liceo scientifico ma niente liceo classico liceo classico uno dei più bei licei il doria uno dei più bei licei d'italia allora dove c'erano i grandi nomi qui della della che poi sono venuti fuori insomma di nomi nomi importanti non so il 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 direttore generale che ha sostituito valletta mi parla l'italia veniva del nord essere fresco se non erro comunque insomma era di gente di quella levatura lì e io mi sono trovato su un passato dei pompieri a questi ragazzi via dei professoroni che se la tiravano un po perché erano professori del doria e mi hanno insegnato molto io ho penato molto a imparare il greco il latino tutte queste pippe qua mentre invece volevo continuare sulla mia sulla mia geometria analitica e le mie cose che non mi è stato dato di fare però l'ho continuato poi dopo come la storia racconterà e ho fatto il mio liceo fatto liceo mio padre si è trovato il tuo figlio un po sbarazzino una un'estate mio padre mi aveva mandato quando comandava la spezia era ero stato un po troppo birichino e allora da preso il suo segretario e che aveva un'impresa edile piccolina da geometra così e che mi ha mi abbia assunto mi ha assunto io ho fatto tutta un'estate quando è mai detto tu sei stato promosso però per caso tu adesso devi capire che differenza c'è fra i promossi e i bocciati se tu un altro anno sei bocciato vai a fare quello che farai quest'estate con questa impresina perché lavorerai a fare il muratore io ho fatto il muratore tutta l'estate portare carriolate non sapevo fare altro carriolate di mattoni e di di sabbia e a vedere fare sulle case e così è passato dopo di che ho deciso che avrei continuato col mio liceo doria e ho finito con una maturità decente perché l'ho superata e fine così quindi aveva un padre abbastanza intransigente anche se non avrebbe mai violentato la mia volontà perché mi dava l'opportunità di scelta giustamente e lì subito dopo è venuta la scelta di cosa fare dopo la maturità